Sul litorale di Agnone Cilento, da come si può evincere dalla foto pubblicata dall'ex sindaco di Montecorice Pasquale Tarallo, sono stati ritrovati migliaia di residui di plastica, tappi, puntali di ombrelli, cannucce e bottiglie. In una ventina di giorni, grazie all'attività di un volontario che già nei mesi scorsi aveva mostrato il suo impegno per la salvaguardia dell'ambiente in cui vive, sono stati recuperati tanti rifiuti che danneggiano e inquinano il mare, causando gravi conseguenze all'ambiente. Il volontario ha scelto di rimanere nell'anonimato, dando un esempio di buonsenso e dedizione all'intera collettività. Questa è una piccola parte di ciò che l'uomo regala a madre natura non solo in occasione dell'epifania, ma tutti i giorni, 365 giorni all'anno, dichiara Tarallo. Questo rappresenta allo stesso tempo l'impegno di un solo uomo che gode della mia incondizionata riconoscenza e disponibilità e che dedica il suo tempo libero alla pulizia delle spiagge. È il raccolto di una ventina di giorni. I sacchi chiusi sono ancora da scartare. Quest'uomo ha raccolto in primavera una quarantina di sacchi sulla spiaggetta dei Porcelli e più di cento all'Icosa. Immaginate, conclude Pasquale Tarallo, se una persona su cento facesse questo tutti i giorni e questo al netto di buone pratiche e rispetto dell'ambiente.